Dopo aver iniziato nel migliore dei modi la nuova avventura nel campionato cadetto, il Bari si prepara all'impegno previsto ad Ascoli dalla seconda giornata di campionato. A questo proposito, buone indicazioni sono arrivate dall'amichevole disputata a Molfetta per festeggiare il ritorno della società del presidente Lanza nel campionato d'eccellenza. Il Bari si è imposto con le reti di Ceppitelli, secondo gol in pochi giorni per il difensore barese e Schaudone. Intanto, a poche ore dalla chiusura del mercato, dopo aver presentato il centrocampista ungherese Filcor, il Bari si è assicurato anche le prestazioni dell'uruguaiano Gustavo Aprile, preso dal Bellavista Montevideo, centrocampista classe 1988. Tornando al campionato è stato il turno del portiere Lamanna, divenuto ormai, dopo le vicende estive di mercato, il beniamino dei tifosi a presentarsi in sala stampa. Per ricevere questo apprezzamento per un ragazzo è sempre importante. Te li aspettavi? Sinceramente non ci avevo pensato, è stata una bella sorpresa. Poi, l'estremo difensore biancorosso ha parlato del nuovo modulo difensivo a tre. Questo modulo, secondo me, può darti la possibilità di coprirti di più, anche di attaccare con più uomini. Stessa cosa succede anche con il 4-3-3. Comunque, alla fine è una questione di numeri, perché comunque se è una fase difensiva, comunque l'offensiva si adoperano tutti, alla fine si è protetto. Infine, il promettente portiere del Bari ha fatto una disamina tecnica dell'avversario marchigiano. Gli Ascoli, l'anno scorso abbiamo perso, comunque sappiamo che è un campo difficilissimo. Prendiamo tre a uno. Sappiamo che è un campo difficile, però comunque andiamo per fare la nostra partita. L'anno passato è passato, quindi guardiamo quest'anno.